Oggi voglio parlarvi di un film che ho visto qualche giorno fa e ho voluto attendere appunto qualche giorno prima di poter realizzare la video recensione perché mi sono reso conto, e a volte succede, che nel caso di alcuni film se io ve ne parlassi, se io dovessi realizzare immediatamente un video subito dopo essere uscito dalla sala la mia opinione sarebbe chiaramente a caldo, ma a volte succede che in realtà con il passare delle ore, con il passare dei giorni questa opinione possa anche un po' cambiare, possa essere smussata, ed infatti questo è successo con il film che voglio appunto recensire oggi per quanto non è che io abbia cambiato radicalmente la mia opinione, però ecco, ve ne parlerò oggi in termini un po' meno negativi di quanto avrei fatto qualche giorno fa sto parlando del film Back to Black, film che ovviamente si propone di raccontare la storia, una parte in realtà della storia di Amy Winehouse grande leggenda della musica purtroppo scomparsa, ovviamente non è uno spoiler e questo lo voglio dare per scontato ci mancherebbe altro, quindi scomparsa ormai nel 2011 se non ricordo male, quindi quasi 15 anni fa prima di iniziare però io voglio ricordarvi come sempre innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto quindi se siete capitati qui per caso, se guardate i miei video senza essere iscritti iscrivetevi perché così aiuterete il canale a crescere ancora di più poi vi invito anche a mettere il vostro mi piace a questo video se vi sarà piaciuto commentatelo, condividetelo ovunque vogliate così stimoliamo un po' l'algoritmo di YouTube e lo facciamo arrivare un po' dovunque e lo facciamo arrivare anche ad altre persone ed infine vi aspetto su Instagram, su Facebook e nel mio canale Telegram trovate i link in descrizione detto questo, passiamo appunto alla video recensione di oggi voglio lasciare una traccia appunto nel mio canale per quanto riguarda questo film proprio perché come vi ho detto con il passare dei giorni ho visto un po' modificare quella che è la mia opinione generale su questo film per quanto, ripeto, non è che abbia cambiato radicalmente la mia opinione però ho in parte smussato qualche cosa che inizialmente mi faceva storcere il naso in maniera maggiormente evidente nei confronti di Back to Black e quindi oggi voglio dirvi la mia come ho detto poc'anzi è chiaro che anche se stiamo parlando di un film inedito anche se stiamo parlando di un film al cinema non voglio, come dire, parlare con spoiler senza spoiler perché? Perché è chiaro che noi dobbiamo dare un po' per scontato anche quella che è la minima conoscenza della vita di Amy Winehouse e come ho detto è un artista che ci ha lasciato ormai da più di dieci anni e quindi sappiamo come purtroppo è andata a finire la sua storia quindi non voglio, come dire, voglio dare per scontato che chi andrà a vedere questo film almeno questo lo sappia poi non andrò nei dettagli per quanto riguarda la trama non andrò nei dettagli per quanto riguarda i vari momenti nella vita di Amy Winehouse che sono stati raccontati in questo film però almeno quella, come dire, quella che è la purtroppo fine in fausta di quest'artista la voglio dare per scontato il film tra l'altro non è che racconta tutta la vita di Amy Winehouse si concentra principalmente, anche se non soltanto su quella che è la fase iniziale della carriera di Amy Winehouse quando ancora non era conosciuta, quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica, grazie anche alla presenza di un padre che nel film viene raccontata come una figura che l'ha comunque poi appoggiata nelle sue scelte, apro parentesi, la chiudo immediatamente pare che in realtà le cose non è che siano andate proprio così ma su questo ragionamento ci ritorneremo fra poco e poi ovviamente quella che è stata l'ascesa di Amy Winehouse soprattutto durante la preparazione di quello che è l'album Back to Black che l'ha portata anche ai primi grandi trionfi internazionali al fatto di diventare ovviamente una star internazionale quello che poi è diventato per poi ovviamente affrontare anche quella che è stata la fase problematica nella sua vita privata, soprattutto privata con un matrimonio a dir poco problematico con un rapporto tossico con quello che era il suo compagno e poi anche suo marito e fondamentalmente poi con quello che è stato il rapporto che ne ha determinato anche la morte e cioè il rapporto con l'alcol quindi l'alcolismo dal quale ha provato anche ad allontanarsi però ripeto, purtroppo sappiamo quello che è stato il destino avverso che ha purtroppo colpito Amy Winehouse quindi il film in realtà non affronta l'infanzia non affronta l'adolescenza ci fa, come dire, immergere in media stress mettiamola così in quella che è la vita di Amy Winehouse nelle fasi davvero iniziali della carriera quindi da quando lei aveva poco più che 18 anni all'incirca quindi una ventina d'anni fino alla fine della sua vita io mi sono approcciato a questo film senza avere grandissima curiosità c'è da dire è un film che non fa altro che andare a confermare quella che è ormai una tendenza cinematografica che va avanti da quasi 10 anni all'incirca un po' di meno perché? perché per quanto i film biografici sulle stelle della musica in realtà siano esistite da tantissimo tempo ora basti pensare anche al film The Doors un film degli anni 90 di Oliver Stone un film discusso, criticato anche perché, come dire, era considerato ed è considerato un film poco fedele alla realtà dei fatti con Val Kilmer, secondo me però leggendario nei panni di Jim Morrison i film appunto biografici sulle stelle della musica sono esistiti da sempre c'è da dire che da Bohemian Rhapsody in poi quindi dal 2017 non ricordo di quando era quel film ma dal 2017 e dal 2018 quindi da circa 6-7 anni stiamo assistendo davvero ad un proliferare continuo di questi film ora chi mi segue da un po' lo sa io sono un grande amante dei film biografici so benissimo che questa è una caratteristica un po' particolare perché forse non è neanche da considerare un genere vero e proprio il genere biografico però a me appassiona vedere questo tipo di film proprio per poter avere anche una conoscenza parziale ovviamente di determinati personaggi di determinate storie vere da Bohemian Rhapsody in poi anche a causa, o grazie, dipende dai punti di vista grazie a quello che è stato l'enorme successo di quel film ricordiamolo anche trionfato dagli Oscar negli anni successivi e si è instaurata questa tendenza continua nel portare in scena film sulle stelle della musica basti pensare a Rocketman su Elton John oppure anche al recente film One Love su Bob Marley ma in realtà ce ne sarebbero altri film anche su Bob Dylan che tra l'altro verrà nuovamente portato in scena con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan arriverà anche il film su Michael Jackson arriverà da quello che si dice anche il film su Bruce Pristin quindi è chiaro che i film biografici sulle stelle della musica sono esistiti da tempo esistono a maggior ragione adesso e quindi sono andato a vedere Back to Black anche con la consapevolezza che difficilmente mi sarei trovato di fronte ad un film travolgente ad un capolavoro ne avevo già sentito parlare in termini diciamo particolarmente neutri e comettiamola così quindi nessuno che si esaltava nessuno che lo andava a smontare in maniera clamorosa subito dopo l'uscita dalla sala devo dire che ero abbastanza deluso comunque avevo una sensazione proprio di come dire essermi imbattuto in un film poco riuscito di avere perso quasi due ore del mio tempo con il passare delle ore come ho detto poc'anzi la mia opinione si è un po' smussata non è cambiata perché? perché io comunque Back to Black non riesco a considerarlo un grande film non è per me un film riuscito al 100% probabilmente non rende neanche giustizia al 100% a quella che è la storia complessa di Amy Winehouse non intendo dire che voglia giustificare Amy Winehouse o voglia giustificare il marito tutte le figure presenti nella sua vita voglio dire che probabilmente come spesso succede in realtà nei film biografici la realtà è stata un po' mascherata e io lo dico sempre è chiaro che i film biografici devono avere anche la possibilità di romanzare la vita reale quella che è una storia vera quello che è un personaggio realmente esistito dato che non sono dei documentari quindi fermo restando questo ed è un presupposto dal quale parto sempre nel momento in cui guardo un film biografico c'è da dire anche che un film biografico deve potersi prendere delle libertà narrative però a patto che il film poi funzioni a patto che poi queste libertà queste licenze creative siano funzionali alla storia proprio da un punto di vista cinematografico e secondo me in questo film qualcosa non è proprio andato per il verso giusto a parte qualche differenza che appunto pare esistere con la storia vera che io non conosco tra l'altro nel dettaglio c'è da dire che io non sono un grandissimo fan di Amy Winehouse non ho mai approfondito la sua vita reale però per esempio la figura del padre, Mitch, in questo film è stata particolarmente edulcorata da quello che ho avuto modo di dire addirittura è proprio il personaggio del padre il vero personaggio del padre che ho letto in un'intervista ha rilasciato appunto delle dichiarazioni secondo le quali lui stesso si è come dire non si è riconosciuto nel personaggio che è stato raccontato perché è un personaggio quello del film troppo positivo ecco mettiamola così a quanto pare le cose non sono proprio andate così lineari in maniera così lineare come nel film vengono raccontate è pur vero però che il film Back to Black per quanto sia un film con alcune problematiche in realtà tutto sommato riesce a restituire un'immagine di Amy Winehouse sicuramente ripeto romanzata ma comunque in grado di comunicare probabilmente quelle che sono state le problematiche più gravi più importanti con le quali la stessa Amy Winehouse ha dovuto fare i conti durante la propria vita l'alcolismo soprattutto anche se c'è da dire che probabilmente in tanti momenti il film si perde in dei didascalismi un po' banali quindi nel voler mettere in evidenza quella che era la dipendenza di Amy Winehouse nei confronti dell'alcol dal quale cerca poi di sfuggire attraverso anche il recovery in una struttura di recupero tra l'altro quella è la parte del film che meno mi ha convinto perché viene soltanto fugacemente toccata ma non si dice nient'altro se non in pochissimi secondi di quella che è stata la vita di Amy Winehouse all'interno della struttura diciamo che si è voluto un po' come dire bypassare quel momento per quanto riguarda chiaramente il film diciamo adesso si concentra principalmente da un certo momento in poi su quello che ho già definito essere un rapporto tossico il rapporto matrimoniale anche tossico tra Amy Winehouse e suo marito Blake un rapporto davvero che la portò anche davvero sull'orlo del precipizio per poi purtroppo in realtà portarla anche alla morte in maniera indiretta mettiamola così lasciatemi passare questo termine chiaramente non proprio appropriato al cento per cento quindi un rapporto tossico che in qualche modo nel film viene raccontato anche come quasi fondamentale tra virgolette nel far sì che Amy Winehouse potesse poi realizzare quelle che sono le più importanti canzoni che hanno contraddistinto la sua carriera ora un'altra cosa che a caldo nel diciamo dopo la visione del film mi aveva convinto molto poco è stato l'utilizzo proprio delle canzoni ora c'è da dire che probabilmente per realizzare questo film io credo che i sceneggiatori gli autori il regista forse credo abbiano avuto comunque qualche problema anche nell'utilizzare le informazioni su Amy Winehouse io credo che non sia andato tutto per il verso giusto anche nel rapporto con i familiari tanto che infatti non viene mai mostrata neanche durante i titoli di coda nessuna immagine della vera Amy Winehouse quindi almeno da quello che ho visto io non si vedono immagini né filmati niente che faccia riferimento alla vera Amy Winehouse non so perché è una cosa che ho notato non è uno spoiler chiaramente è una caratteristica dei titoli di coda del film e di solito succede nei film biografici i film solitamente si concludono proprio con le immagini del vero personaggio quindi in questo caso mi sarei aspettato qualche foto o qualche video su Amy Winehouse così non è quindi chissà che non ci siano stati dei problemi di base e come dicevo poc'anzi appunto l'utilizzo delle canzoni in questo film ha uno scopo ben preciso Amy Winehouse chiaramente ha avuto una carriera non particolarmente lunga purtroppo quindi nell'arco di una carriera di circa dieci anni ha realizzato tanti successi appunto canori quindi sia commerciali ma anche artistici e in questo film sono presenti non tantissime canzoni c'è da dire ne sono presenti forse sei sette più o meno la cosa che inizialmente mi aveva un po' infastidito è che il film nella sua quasi interezza viene come dire strutturato da un punto di vista narrativo in funzione di queste canzoni cosa voglio dire se voi prendete in considerazione per esempio Back to Black come canzone che tra l'altro è anche quella che poi diede il titolo all'album e quindi dà il titolo anche al film il testo della canzone Back to Black ovviamente fa riferimento come detto poc'anzi proprio a quello che è stato il rapporto problematico con il fidanzato e poi con quello che diventa suo marito tanto che infatti nel film le canzoni vengono generalmente posizionate in maniera strategica secondo me è stato chiaramente una cosa voluta alla fine di determinati tronconi narrativi quindi per esempio c'è una parte del film che dura all'incirca 20-25 minuti alla fine di questo troncone c'è la canzone ed è una canzone che non fa altro che in qualche modo andare a riassumere tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento quindi non fa altro che in altre parole farci capire come Amy Winehouse abbia realizzato quella canzone chiaramente in funzione di quello che ha vissuto fino a quel momento ora a caldo vi devo dire che è una scelta che mi aveva un po' infastidito soprattutto perché perché è una cosa che succede ripetutamente durante il film tutte le canzoni presenti nel film quasi tutte hanno una quasi una funzione di raccordo tra quelli che sono i vari segmenti narrativi del film se a caldo mi aveva un po' dato fastidio devo dire che con il passare dei giorni questa sensazione di come dire di sgradevolezza si è un po' affievolita però ripeto succede durante tutto il film dall'inizio letteralmente fino alla fine quindi la canzone che viene cantata dalla Amy Winehouse chiaramente cinematografica non fa altro che andare a chiudere una parte del film che ha in qualche modo portato a partorire quella canzone ci può stare come scelta di tipo narrativo ci può stare come scamotage cinematografico l'ho dovuta metabolizzare questa scelta ecco vi devo dire la verità per quanto riguarda il film poi è un film che non ha particolari picchi c'è da dire né da un punto di vista cinematografico e registico né da un punto di vista scenografico purtroppo vi devo dire che il film secondo me è un po' debole anche per quanto riguarda le scelte di casting ora io non ho idea di quelli che sono stati realmente i personaggi che hanno affiancato Amy Winehouse in quella che è stata la sua vita privata e pubblica ma se ci fermiamo proprio al personaggio di Amy Winehouse ecco ho trovato qualche problema mi spiego cerco di spiegarmi la attrice che interpreta Amy Winehouse Marisa Abela credo sia questo se non ricordo male anche il nome è un'attrice che tra l'altro non è che abbia avuto una lunga carriera alle spalle fino ad ora ha avuto alcune partecipazioni a dei film credo abbia partecipato anche a Barbie di Greta Gerwig però ecco diciamo che questo è stato il suo primo ruolo forse davvero importante non somiglia neanche per sbaglio ad Amy Winehouse ora non voglio essere troppo pesante nelle mie considerazioni io capisco i costumi di scena e vabbè e quelli sono facili da ricreare posso capire anche il comparto make up il comparto trucco le acconciature che ovviamente anche in quel caso credo siano abbastanza semplici da ricreare però quando si guarda un film biografico e ve lo dico davvero con una certa dose di esperienza alle spalle perché ne avrò visti davvero a migliaia uno dei fattori da prendere in considerazione poi a prescindere da quello che potrà essere il risultato finale del film quindi il film potrebbe anche essere un film pessimo o un film capolavoro ma solitamente per poter in qualche modo anche garantire allo spettatore di rimanere all'interno del film quindi lasciandosi andare alla sospensione dell'incredulità generalmente le scelte di casting devono essere fatte in maniera abbastanza oculata soprattutto poi quando si vuole raccontare la vita di un personaggio così famoso quindi è ovvio che questo ragionamento potrebbe anche non valere nel caso in cui si voglia raccontare la vita di un personaggio sconosciuto e più che magari però è esistito veramente e che vabbè tutto sommato non fa come dire né caldo né freddo vederlo interpretato da qualcun altro ma Amy Winehouse è una diciamo è stata diciamo purtroppo ripeto è scomparsa da ormai diversi anni è stata una scusate un'artista una cantante davvero nota a tutti io credo che Amy Winehouse almeno come nome la conoscono un po' tutti poi si può essere grandi fan o meno quindi mi aspettavo mi sarei aspettato anche in scelta di casting la appunto la possibilità di scritturare una donna un'attrice che le somigliasse in maniera maggiore di quanto purtroppo non riesca a somigliarle Marisa Bela brava diciamo sarà una bravissima attrice una bella donna ma non riesce appunto secondo me a somigliare granché ad Amy Winehouse e ripeto non è che questo poi determina la effettiva riuscita di un film però in un film biografico soprattutto su una personalità così ingombrante su una personalità così nota al grande pubblico diciamo che un po' questo può essere un elemento di disturbo proprio perché io guardavo il film e non riuscivo a vedere Amy Winehouse io vedevo un'attrice truccata da Amy Winehouse non so come rendere l'idea vi faccio un esempio probabilmente avrete visto comunque se non l'avete visto guardatelo il film Gandhi è un film di ormai una quarantina di anni fa secondo me è uno dei film biografici migliori di sempre e Gandhi in quel film è interpretato da Ben Kingsley ora Ben Kingsley non è che sia identico a Gandhi ovviamente no perché è quasi difficile cioè è quasi impossibile trovare qualcuno che sia identico al 100% a qualcun altro anche sotto chili di make up ci mancherebbe altro però quando si guarda il film Gandhi grazie anche alla prova attoriale dell'artista in questione grazie appunto all'opera di make up trucco parrucco in quel caso un po' di meno grazie ai costumi di scena quindi grazie però anche al fatto che l'attore riesca ad essere somigliante al personaggio specifico in qualche modo la sensazione che lo spettatore ha è quasi quella di avere di fronte un documentario quindi ci si in medesima totalmente nella situazione raccontata sembra quasi di avere di fronte appunto qualcosa di vero nel film Back to Black io questa sensazione non l'ho mai percepita neanche per sbaglio davvero dall'inizio alla fine io vedevo una attrice truccata da Amy Winehouse e purtroppo per me in un film biografico questo è un difetto non da poco io posso capire che si vada a cercare chiunque per interpretare il marito di Amy Winehouse che tutto sommato non è un personaggio così famoso o lo stesso discorso può valere per il padre per la madre per la nonna quindi sono tutti personaggi secondari nella vita di Amy Winehouse o meglio nella vita pubblica di Amy Winehouse ma non nella vita privata ma siccome non li conosciamo perlomeno la maggioranza di noi non li conosce va bene così ma non lei ecco mi sarei aspettato una scelta di casting un po' diversa per quanto comunque Marisa Abela tutto sommato da un punto di vista recitativo se la sia anche cavata non ha avuto grandissime sbavature probabilmente si è lasciata andare un po' a delle come dire anche espressioni di mimica facciale troppo accentuate come dire sfiorando quasi quasi anche la parodia però è ovvio che non è mai arrivata a quel punto perché appunto credo che abbia voluto forzare anche la mano abbia voluto anche proprio forzare la diciamo come dire quella che era la sua presenza scenica per cercare di somigliare ad Amy Winehouse seppur sul filo del rasoio non ha mai come dire avuto delle grandissime sbavature per quanto purtroppo a me non abbia convinto granché non è che mi abbia soddisfatto non mi ha fatto fare i salti di gioia il film nel complesso riesce tutto sommato ad essere gradevole è un film che io non come dire al quale non è che riesca a dare grandi voti ecco non do generalmente voti ma la sufficienza riesce a strapparla ma basta dopodiché io credo che il film non riesca ad andare oltre per quanto comunque bisogna riconoscere come dire la capacità da parte di questo film di mettere in evidenza per esempio una come dire un personaggio femminile appunto quello di Amy Winehouse con tutti quelli che erano i suoi demoni interiori demoni con i quali doveva fare i conti costantemente che l'hanno portato ovviamente sulla strada dell'alcolismo che l'hanno portato ovviamente ad avere dei rapporti umani a dir poco disastrosi soprattutto appunto col marito un rapporto tossico di dipendenza emotiva nei confronti di quest'uomo quindi tutta una serie di problematiche che si andavano a scontrare ovviamente con quello che invece era l'enorme successo pubblico che sempre di più andava montando quindi è ovvio che il film di per sé non mi ha fatto sicuramente fare i salti di gioia non mi ha entusiasmato le tematiche di fondo sono chiaramente importanti ci mancherebbe altro voglio anche precisare questo perché non è che siccome il film non mi è piaciuto tantissimo questo significa che gli argomenti trattati risultino essere di scarsa importanza no ovviamente no sono degli argomenti dei temi di straordinaria importanza ma che nel film forse potevano essere raccontati in maniera migliore come poteva essere raccontata in maniera migliore probabilmente tutta la vita di Amy Winehouse compresa appunto quella che era la sua vita privata e pubblica nel complesso il film comunque si lascia seguire non mi ha ripeto non mi ha entusiasmato tanto che infatti ci sono delle parti un po' troppo ridondanti il film dura poco meno di due ore eppure in alcuni tratti mi ha anche annoiato soprattutto perché perché c'è quell'escamotage narrativo di cui vi parlavo poc'anzi che poi a lungo andare a lungo andare un po' pesa quindi io capisco la volontà di fare questa associazione tra la vita privata di Amy Winehouse e le canzoni che poi lei avrebbe scritto ok è un come dire è un espediente che io posso capire qualora venga utilizzato una due tre volte ma quando poi lo fai di continuo un po' diventa così eccessivo a mio modo di vedere così come anche quelle che sono appunto le varie fasi del rapporto tra Amy Winehouse e quello che poi diventò suo marito probabilmente nel film nel film vengono portate all'eccesso in maniera ridondante e anche lì per quanto ripeto siano delle tematiche importanti da un punto di vista strettamente narrativo e cinematografico diventano un po' tediose ripeto nel film chiaramente voglio precisare non è un film brutto quindi ve lo consiglio tutto sommato ora io non sono un grande fan di Amy Winehouse quindi vi parlo senza avere conoscenza diretta di quella che è la sua vita privata da quello che ho letto nella mia pagina facebook quando ho detto di avere visto il film tutto sommato coloro che si professavano delle delle o degli appassionati appunto della musica di quest'artista sono rimasti soddisfatti quindi se siete degli amanti della sua musica di quello che è stata appunto Amy Winehouse andatelo a vedere perché probabilmente rimarrete soddisfatti anche voi però nel complesso è un film che tenderò a dimenticare lo dico non è il classico film pessimo brutto che mi rimarrà impresso in memoria a lungo non è neanche un capolavoro non è neanche un film particolarmente come dire diciamo non riesco neanche a definire un bel film purtroppo è un film che va ad attestarsi in una sorta di sufficienza neutrale che però me lo farà dimenticare nel giro di qualche settimana quindi ho voluto parlarvene proprio adesso proprio per cercare anche di fare un po' il punto della situazione fatemi sapere voi che cosa ne pensate ovviamente se siete degli appassionati della musica di Amy Winehouse anche se non lo siete chiaramente fatemi avere il vostro punto di vista qui nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri questa era la mia opinione su Back to Black chiaramente vi rimando appunto ai commenti io vi invito come sempre anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto quindi se siete capitati qui per caso oppure se guardate i video senza essere iscritti beh iscrivetevi lasciate un vostro mi piace commentate il video condividetelo ovunque vogliate così andiamo a stimolare un po' l'algoritmo di YouTube facendo arrivare il video a quante più persone possibili e vi aspetto su Instagram su Facebook e nel mio canale Telegram trovate i link in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti